Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del Raserba Batavia 7064713. Ti guideremo attraverso il montaggio, illustrandoti come assemblarlo facilmente, in autonomia quando lo riceverai a casa. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il Raserba Batavia 7064713 è progettato per la manutenzione dei prati di piccole e medie dimensioni. Equipaggiato con una batteria agli ioni di litio da 18 Volt, questo Tosaerba combina potenza e leggerezza. Il design del Tagliaerba Batavia include un manico pieghevole, che facilita lo stoccaggio in spazi ridotti. Il diametro di taglio massimo di 32 cm permette di coprire ampie aree in minor tempo. Il cesto di raccolta ha capacità di 25 litri, riducendo la frequenza di svuotamento e migliorando l'efficienza operativa. Inoltre, il Batavia 7064713 è dotato di una funzione di scarico posteriore che tritura l'erba trasformandola in fertilizzante naturale, contribuendo alla salute e al vigore del prato. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. Visita il sito AgriEuro, e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.